L'Atalanta perde contro il Milan a San Siro per 2 a 1 in una partita che dimostra ancora una volta quanto questa Atalanta sia instabile, quanto questa Atalanta faccia difficoltà a cavalcare l'onda e che dietro ogni risultato positivo ci può essere sempre una rovinosa caduta. Come al solito faccio alcune considerazioni ovviamente a titolo personale e poi voi nei commenti siete liberi di dire la vostra. Sulla partita ragazzi c'è solo tanta 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 amarezza perché perdere col Milan può essere anche qualcosa di accettabile alla fine il Milan è una squadra importante ha dentro giocatori forti mi rode il fegato in una maniera incredibile però non è il problema perdere col Milan il problema è perdere un big match facendo zero tiri e facendosi letteralmente mangiare vivi quello è tutto un altro paio di maniche. E non è solo un paio di maniche per il fatto che noi vogliamo una squadra che in campo se la suda ma vogliamo una squadra che ma anche perché se tu sei una squadra che ha delle ambizioni e senza girarci attorno con del percassi tanti hanno parlato di ambizioni certe prestazioni sono inammissibili. Inammissibili al di là del risultato si è vista una squadra che a momenti non ci credeva una squadra che non riesce a impostare un minimo di gioco e questa cosa non va bene. Bisogna dirlo apertamente con tutta la franchezza senza cercare scusanti e senza venirse fuori con la pacca sulla spalla. Abbiamo le possibilità di fare meglio dobbiamo fare meglio certe prestazioni non vanno bene io sono molto netto su questa cosa perché bisogna anche responsabilizzare poi la squadra rispetto alle ambizioni dei tifosi. La mia ambizione è di vedere una squadra che con l'ultima o quella prima in classifica dal 100% e gliela fa sudare e si dimostra combattiva partite del genere in palcoscenici del genere per me sono inaccettabili. Andando poi a vedere proprio la prestazione è Milano superiore a livello fisico ma in maniera clamorosa e anche qua il problema perché l'Atalanta abbia questo clallofisico non lo so ma anche tatticamente tanti 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 problemi. Questa squadra non può rinunciare a Bogat assolutamente sarà un giocatore che si sposa poco con le idee di Gasperini sarà un giocatore che perde diversi palloni ma è anche l'unico che ha un minimo di fantasia che ti può creare delle occasioni di gol dal niente e l'ha dimostrato. Levarlo perché non hai un cambio di valore dato che Muriel è in condizione impresentabile e Pasalic è infortunato per usare un Kuhminers totalmente fuori posizione che diventa innocuo in corruolo non è una scelta che paga. Bisogna essere molto onesti. Lukman gioca bene ed è pericoloso se fa determinate cose dal largo verso lo stretto e bisogna metterlo in quella condizione lì. Ölund è un giocatore che ha determinate caratteristiche e bisogna valorizzare quelle. Io non so voi però la sensazione veramente di trovarmi nel giorno della marmotta ogni volta che l'Atalanta trovo una quadra pian piano la si va a ritoccare di qua ritoccare di là per tornare a un'idea di gioco che l'Atalanta di oggi non riesce a esprimere. E io onestamente questo continuo miglioramento per tornare indietro miglioramento per tornare indietro ho molta difficoltà a leggerlo. Poi come dico sempre mi mancano degli elementi non sono un allenatore non so cosa succede a Zingonia quindi non è che il mister è impazzito però dal divano. Tante cose non si capiscono si era trovata una quadra che tutto sommato funzionava e non era nemmeno la quadra difensiva era una quadra insomma che bilanciava il tutto. Smontarla perché Boga non fa quel passaggio preciso che vuole il mister o perché c'è un movimento di troppo non mi sembra che al momento stia pagando però come sempre massima fiducia in Gasperini che ci ha abituato più di una volta a grandi sorprese. E la seconda cosa che mi importa dire è che onestamente anche il mister dovrebbe un attimino chiarirsi le idee perché le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa secondo me non fanno altro che confondere da un lato dei giudizi che possono essere anche un po' da ombrello o da scudo verso determinati giocatori però dire che si è giocato bene mi pare un po' eccessiva come cosa ma così come francamente non comprendo dire che Eilund e Lukman difficilmente bisseranno i risultati dell'andato del periodo precedente. Cioè denota un continuo voler andare a pungolare un continuo voler andare a sollecitare che forse al posto di stimolare sta un po' stressando l'ambiente quando magari un po' più di calma un po' più di serenità pagherebbe di più. Alla luce poi dal fatto che le cose che veramente poi non si capiscono per esempio la scelta di tenere fuori Bogau quando dice che ha bisogno di allargare il gruppo perché senza un gruppo largo non so avanti quelle non vengono spiegate perché anche lì gruppo largo fino a poco tempo fa il mantra era che era la rosa troppo lunga. Sono stati venduti due giocatori che un giocatore che manco col binocolo vedeva il campo e adesso il gruppo è ristretto cioè diventano serve chiarezza anche lì non è dovuta ci mancherebbe il mister può anche raccontare quello che vuole in conferenza stampa non è tenuto a dirci niente però dopo non ci si può neanche lamentare se la gente qua su youtube ma anche al bar è normalmente perché poi la stessa roba non riesce a capire determinate situazioni se non gli vengono forniti gli strumenti è chiaro tanto la gente parla né più né meno di calcio non è che se non gli si danno delle informazioni allora stanno tutti zitti quindi forse sarebbe meglio anche lì correggere un po' il tiro ed essere un filino più esplicativi. Io invito tutti a ricompattarci perché comunque la classifica ci racconta che siamo ancora lì quindi non serve farsi prendere dallo sconforto le potenzialità io continuo a essere convinto che ci siano però serve uscirne come squadra non come singoli non come non puntandosi il dito a vicenda compatti come squadra secondo me si può uscire e tornare a fare bene con la premessa che l'ho già detto questo campionato gli scivoloni ce ne saranno ancora e oramai l'andazzo è quello però tutto affrontato con un altro atteggiamento come al solito vi ringrazio tutti i miei riferimenti sono in descrizione ci vediamo nel prossimo video ciao Ciao